Come vedete stasera abbiamo una bella fanciulla, Morena Sauvage, che è il nome d'arto di una nostra concittadina e con Morena ne abbiamo già parlato due volte, siamo in parte della terza volta che viene, parliamo di un momento artistico spesso bistrattato, sempre a torto, che proprio negli ultimi giorni ha salito agli onori forse non voluti della cronaca per l'episodio, quell'articolo ufficiale di Roma. Morena è una specialista, è un artista del burlesque, come vedrete dall'immagine che scorrono. Prima domanda, Morena, non voglio certo entrare sul discorso se era l'oggi giusto, volevo sapere, alla fine, il momento in cui non è finito ma il Covid sta allentando, il burlesque come si è difeso dal Covid? Non molto bene, purtroppo, per fortuna, si è espanso il burlesque e non tutti hanno capito esattamente che cos'è il burlesque. Ah beh, questo ci riportiamo a un discorso che abbiamo già fatto. Si sono approcciati al burlesque in modo amatoriale, che è sicuramente giusto, ma con poche conoscenze. A tutto ciò, ovviamente, il burlesque, come negli anni 30, negli anni 40, ha subito un'ascesa col fatto che anche i teatri… Perfetto, e durante il Covid, come ha sopportato il Covid, è stato battuto dal Covid? Durante il Covid ci sono state delle colleghe di tutto rispetto che si sono approcciate alla tecnologia, screditando un pochettino anche il burlesque, perché comunque bisogna andarla a vedere dal vivo, quindi questa è stata un pochettino la falla del burlesque durante il Covid. Le altre più consce di ciò che è il burlesque sono rimaste a casa, hanno creato i costumi per una nuova rinascita. E il burlesque nella zona iblea, quello che più la interessa e ci interessa direttamente, com'è andato? Eh, piano piano… Ora sono due anni esatti, dall'inizio, da quando all'inizio non si poteva muovere, poi allentamenti, di nuovi restringimenti, come è andato? Piano piano si sta espandendo, ho una cara collega Lady Kent che sta facendo dei grandi eventi, il prossimo sarà il 25-26 marzo a Catania e sta dando un buon messaggio del burlesque in quanto grande professionista e devo dire che c'è molto affietamento tra di noi, stiamo cercando di far capire bene che cosa è realmente. Intanto scorrono le immagini, sì dicevo ma, è una domanda che l'ho già fatto, però devo vedere proprio come va il trend, i lavori come vanno, cioè lei vede tra il pubblico del burlesque, vede differenze, cioè è entrato un po' di più, è riuscita un po' di più la gente a capire che il burlesque è una cosa particolare, lei ne sta dando anche la dimostrazione in questa immagine che il pubblico sta vedendo. Sì, assolutamente sì, il burlesque piano piano sta entrando anche qui in Sicilia nell'ottica di uno spettacolo adatto comunque a tutti, uno spettacolo che può far divertire, uno spettacolo per le donne, uno spettacolo che può aiutare le donne ad una riflessione anche su se stesse, questo sì. Ma quello che è fondamentale nel burlesque a mio avviso è innanzitutto l'ironia. Assolutamente. Allora, come si sviluppa e come è nato questo concetto per Morena? Che tipo di ironia utilizza? È un'ironia contro qualcuno, a favore di qualcuno, a supporto di qualcosa? A supporto della propria femminilità, della propria sensualità, del credere in se stesse, quindi l'ironia non è altro che il risultato di una maggiore sicurezza in se stessa, reso un po' più leggero, perché spesso l'essere sicure di se stesse è il risultato di tante lotte e quindi il burlesque ci aiuta a rendere queste lotte con un sapore un po' più dolce. Ma nel burlesque, vero quello che fa lei, si sommano una serie di momenti artistici che riguardano la musica, che riguardano l'abbigliamento, che riguardano il canto, che riguardano il cabaret, in senso più lato, eccetera, eccetera. So che lei cerca di lavorare a tutto tondo, cercando di curare ogni ambito. Qual è l'ambito che è più difficile da curare? L'ambito più difficile all'interno del burlesque non c'è in realtà, in realtà è quello di farsi conoscere, essere il più professionali possibili, nel mio caso specifico sono anche soprattutto una cantante e quindi inserire il canto con il burlesque nella creazione di un act a volte diventa un po' difficile e non a caso infatti sto producendo il mio primo album, dedito proprio al burlesque. Perfetto, che tipo di musica fa lei? Io faccio swing, blues, jazz, ma non disprezzo anche un pop, un po' più swingato diciamo. Bene, tra l'altro lei che è una addetta ai lavori perché viene dal mondo dell'educazione fisica in senso lato, dello sport in senso un poco più ristretto, quindi questo qua sicuramente l'aiuta. Ma per la signora Rossi, per la signora Tumino, piacente e roba simile che può acquistare una nuova autostima di se stessa in generale e in questo fatto qua, lei pensa che il burlesque come idea sia possibile per chiunque sia stato dotato da mare natura di un certo orecchio, di una certa voce, di un certo fisico eccetera eccetera? Assolutamente sì, ovviamente bisogna capire l'obiettivo per il quale si fa il burlesque perché se si fa per stare su di un palco bisogna studiare molto bene e tanto. Non a caso sto facendo un corso proprio questo sabato chiamato La Donna in te, dove si approfondirà il burlesque e può partecipare chiunque perché il burlesque è il tramite giusto per far esplodere, per far brillare la donna, per farla credere in se stessa, per far sì che giunga ad una riflessione che è quella di credere in se stessa e di essere libera da qualsiasi convenzione sociale. Mi libero questa domanda che può sembrare stupida. Per esempio, non è il caso e non mi metto certo a dire che soltanto so, esiste lo striptistice femminile e quello maschile? Esiste un burlesque maschile? Certo, si chiama Boylesque. Come si chiama? Boylesque. Ah, Boylesque. Sì, esiste. Ci sono molti ballerini di Boylesque davvero bravi, noi qui ne abbiamo uno, si chiama Gonzalo Mirabella, sta a Roma e devo dire che porta a testa alta questa branca del burlesque. Bene, le confesso che il merito della mia ignoranza era totale. Allora, detto questo, i centri italiani dove una ragazza, perdoni, non sono un maschilista o altro, ma usualmente, anche il film si chiama Burlesque, è passato l'altro qualche sera fa, proprio credo su Mediaset, dicevo, una ragazza che voglia entrare in questo mondo presso, quali sono le città base? Qui in Italia sicuramente Roma e Milano, vantano le migliori… Lo stesso modo? Sì, 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 vantano le migliori artiste di burlesque che possono… Parliamo di burlesque serio? Sì, 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 assolutamente sì, io vado proprio a Roma ad apprendere. Quindi questi sono i principali e poi piano piano anche qui in zona, qualcosina si sta muovendo. E poi, visto che noi facciamo, cerchiamo di fare informazione, l'informazione che ho fatto anche questa tutto dono, c'è anche tanta paccottiglia, tanto pacciame, tanta roba che non va bene. Allora, dalla sua esperienza, fermo restando la sua qualità di artista che è al di fuori di questo, le sarà capitato di incontrarli, le sarà capitato di vederli, eccetera, eccetera. Non dico come si riconosce, ma hanno comunque, credo, delle caratteristiche che li evidenziano, li contraddistinguono questi burlesque fai da te per non dire peggio. Allora, ci sono dei burlesque fai da te… E questi già sono ancora accettabili, poi ci sono quelli peggio. Sì, allora, vanno distinti perché il burlesque fai da te può essere anche quello amatoriale, quindi bisogna dare tempo alle performer di crescere. Il burlesque fai da te, come intende lei… No, no, come intendo, come intendo la loro… Sì, sì, come è visto il burlesque nella società. E' un burlesque fatto un po' male, nel senso non si è inteso esattamente cos'è il burlesque, che è lontano dallo striptease dei Nut Club, ok? Molto, molto lontano, perché nel burlesque bisogna pensare all'epoca a cui si vuole appassionare, bisogna fare dei vestiti ad hoc, il personaggio sul palco ha un'idea logica che deve essere sempre coerente. La musica deve essere adeguata. Adeguata all'epoca che si è scelta e soprattutto non bisogna mai essere volgari o stentare la femminilità e la sensualità. Ma ostentare… Il burlesque suggerisce. Suggerisce, sì, fa intuire. Esatto, perché del resto ci sono le attrici che vengono considerate attrici molto secchi, ma quelle che lo sono in realtà in assoluto sono quelle che lo sono, ma non sembra che lo siano. Esatto. Poi lo scopre il burlesque è la stessa. Bene, andiamo nella parte finale. Ancora una volta, non che io intenda fare in questo qua proselitismo, però ritengo che sia importante che le cose vengono viste come sono in effetti. Questo vale dalle cose serie, gravissime, come i momenti di guerra, al covid, ma vale anche perché l'informazione deve essere quanto più ampia e quanto noi abbiamo cercato di parlarne di tutto. Questa è la terza volta, ce ne saranno altre. Quello che volevo sapere, lei mi raccontava che il burlesque molto spesso è a chiamata, cioè nel senso io, signor Rossi, voglio fare una serata burlesque, contatto, di solito c'è l'imprenditore, quello che è, e gli dico, senta, vorrei tale artista, tali cantanti, tali musicista, è così o no? Sì, in realtà per quanto riguarda la burlesque performer siamo imprenditrici di noi stesse. Potreste però avere un agente. Sì, 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 ma ci muoviamo spesso da soli in base anche ai successi o meno che abbiamo, quello sì, quindi funziona in questo modo, ci chiamano e ovviamente noi dobbiamo scegliere il contesto adatto per poter esibire il burlesque. Sicuramente il burlesque non è uno spettacolo da esibire con il pubblico a meno di un metro di distanza, buttandosi a terra, questo non è proprio l'ideologia del burlesque. Esiste il burlesque in case proprio? No, dipende se è un evento privato, vengono a chiamare l'artista del burlesque, allora sì, ma ci devono essere i predisposti giusti. Normalmente viene fatto in ambienti tipo piccoli, che so, piccoli teatri, piccoli. Sì, ma anche delle feste private volendo, ma il pubblico deve essere un po' più educato al burlesque. Perfetto, ultima o almeno quasi ultima, di media quando parte, chiamo burlesque, in quanti partono del burlesque? In che senso? In quante persone? Eh, dipende, dipende. Uno standard, uno. Un 50. Non gli spettatori, le persone che fanno il burlesque. Ah, e le persone che fanno il burlesque, una, due. Narra un musicista dai poveri, o usa le basi. Le basi, le basi. Ah, vero oggi sì. Per quanto riguarda i piccoli eventi, per quanto riguarda i grandi eventi, anche i festival ovviamente vantano dei musicisti con… Ma oltre alle basi ci sono altri supporti tecnologici, luci, troppo scuola, cose particolari? Sì, dipende dal contesto, se sono feste private quasi mai. Ah, beh, chiaro. Se sono teatri assolutamente sì. Benissimo, il prossimo grande appuntamento del burlesque? Il prossimo, spero, Berlino a ottobre. Beh, 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 la casa, casa madre. Sì, e il prossimo evento invece che farò io per le donne e per il burlesque sarà questo sabato, perché ogni mese farò un workshop chiamato La Donna in Te. E dove? E' presso la Libellula, centro danzaria, è una scuola di danza, è qui a Ragusa. E ci dica dove è? E' via Mattei. Via Mattei, benissimo. Allora, abbiamo salutato con piacere rivisto, con piacere la signorina Sauvage, Morena Sauvage, siamo entrati un poco in questo mondo sicuramente luccicante, sicuramente d'effetto, però ricordate che dietro questo c'è tanta fatica, tanto lavoro e tanta professionalità. Morena, grazie, appuntamento alle prossime volte, con il lavoro di vederla in diretta da Berlino. Grazie. Grazie.